41 ordinanze di custodia cautelare, di cui 37 in carcere e 3 agli arresti domiciliari e un obbligo di dimora, sono state eseguite da 160 finanzieri del Comando Provinciale di Bologna, con il supporto dello SCICO e di altri reparti nelle province di Bologna, Reggio Emilia, Modena, Parma, Milano, Cremona, Brescia, Pavia, Livorno, Roma, Foggia, Potenza, Crotone e Reggio Calabria. Il tutto a carico di soggetti appartenenti a un'associazione a delinquere composte da italiani e cinesi, appartenenti o contigui all'andrangheta reggine crotonese, dedica al traffico internazionale di cocaina, hashish e marijuana, operazione scattata all'alba dopo due anni di indagini e che ha smantellato un fruttuoso mercato di stupefacenti e relativo riciclaggio di denaro grazie a contatti con gruppi di cinesi che con una serie di bonifici internazionali provvedevano a ripulire le somme a Hong Kong. L'organizzazione aveva contratto rapporti con importanti cartelli del Sud America grazie al leader dell'associazione, identificato in un soggetto già noto alle croniche, ai vertici dell'Andrina Stacu di San Luca in provincia di Reggio, latitante in Spagna dal 2018 e tratto in arresto nel marzo del 2021. Nel corso delle indagini sono stati ricostruiti approvvigionamenti e cessioni di quantitativi che sfiorano i 1200 kg di cocaina, i 450 kg di hashish e 95 di marijuana. Tali ingenti quantitativi di stupefacenti hanno fruttato all'associazione decine di milioni di euro, parzialmente reimpiegati in 14 società intestate a prestanome e utilizzate anche per mascherare in pieno periodo di lockdown pandemico i trasporti di droga attraverso false bolle di accompagnamento. Durante le indagini sono stati inoltre arrestati in flagranza di reato tre cittadini italiani sequestrati 43 kg di cocaina, 44 di hashish, sostanze da taglio e frullatori utilizzati per preparare il narcotico e poco meno di 140.000 euro in contanti trovati nella disponibilità di uno dei riciclatori cinesi e 10.000 prodotti contraffatti recanti ai famosi brand. Oltre alle 41 ordinanze di custodia cautelare, le fiamme gialle bolognesi hanno eseguito il sequestro di 44 immobili e terreni, 17 tra autoveicoli e motocicli, 354 rapporti bancari e 80 fra società, attività commerciali e partecipazioni sociali per un valore complessivo stimato di oltre 50 milioni di euro. Grazie a tutti.